Ciao Belli! Ed ora, ciao Belli, voliamo a Londra da Super Mario! Il secondo i tabloid inglesi, Mario Balotelli avrebbe comprato una grossa Harley Davidson, pagandola un sacco di soldi e accessoriandola con tutti gli extra possibili. Mario Balotelli si è accattato una moto, dimenticandoci di essere un calciatore, categoria che oltre ad avere soldi e fighe gratis, ha anche qualche dovere verso società e tifosi. Quando si è presentato da quelli del club per chiedere il permesso di guidarla, questi si sono messi a ridere, perché possedere una moto è contrario alle severe regole assicurative imposte ai giocatori del sito. A questo punto a Super Mario non resta che il quad rosa che si è comprato alla fine della scorsa stagione, anche se nemmeno per quello avrebbe chiesto il permesso di guida. Ma andiamo sulla scena del crimine. Coordinate Manchester via Luther Blissett 14 Pronto, pronto? Mi sentite pezzi di merda? Pronto? Parla con noi! Ciao figli di puttana! Adesso mi sento bene, cazzo! Dove va? Ho messo il telefono al contrario! Ho messo il telefono al contrario, cazzo! Oh, lo sapevo che mi chiamavate, eh, pezzi di merda! Ah, lo sapevi? Sì, secondo me questa è un'idea del barbuzziente morto che... No, 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 il barbuzziente sarei tu e morto, soprattutto noi, il tuo coferro. Ferrari, se scopro che è una tua idea, quella di chiamarmi, torno in Italia, ti aspetto sotto la radio e ti do uno schiaffo così forte, ma così forte che diventi bello e intelligente. Ma cazzo! Così devi cambiare la fototessera su tutti i tuoi documenti, cazzo di merda. Mario, raccontaci com'è andata con la moto! Va bene, te lo racconto, ma solo perché me lo chiedi tu, dice Angelo. Allora, siccome che in macchina prendo troppe multe... Certo. ...e in più mi arriva anche l'Equitalia da Milano. Ahia! Praticamente sono sfruttato dai debiti, cazzo. E quello becca a tu. Vabbè, siccome non me ne frega niente, eh, ho comprato l'Ari Davidson. Ah. Solo che cazzo, quando sono arrivato lì al Manchester, mi hanno detto che non posso guidarla. Eh, ci direi, se ti fai male, allora non investi i soldi su di te. E adesso che cazzo ci faccio con la moto? Eh, regalo da qualcuno, vendila, non lo so. Ferrari, la vuoi tu? No, io non guido le moto, no, mi spiace. Ah, già che non sei capace. Non sono capace, no. Cazzo, sei troppo un disastro, Ferrari. Eh, ci sono due ruote, ci sono due biciclette, ci sono due moto. Per me è uno che non sa andare in moto e non ha la barba, non è un uomo. No, io so. Non mi dico, non sei duri perché. Ferrari, secondo me tu c'hai la figa. No! Inteso come parte del corpo? Ovviamente sì. Ah, ok. E niente, adesso con la moto che cazzo ci devo fare, ragazzi? Eh, non so, ti ripeto, non leggiala. La guardo. Non ci posso né salire, non posso neanche guidarla, cazzo. E quando avrai finito il contratto con Manchester la guidare, non so. Ferrari? Dimmi. Ma se a terra di Udj ti dice che non puoi più andare in Vespa, cosa fai? Beh, a parte che non puoi. Eh, non ci vado, non ci vado in Vespa. A me è, io ci vado comunque. Ci vedi nascosto, ovviamente. Eh, certo. C'hai ragione, dici, Angelo, cazzo. Cazzo me ne frega me di questi figli di puttana. No, guarda che ti pagano. Io la moto non la posso mica tenere ferma, cazzo. Poi tra l'altro sono anche molto famoso, li conoscono tutti. Eh, infatti. È un buon problema, cazzo. Ho avuto l'idea. Sì, sentiamo. Guido la moto con il radiocomando. Così non ci devo salire, cazzo. Ma come? Ma poi come fai a mettere un radiocomando su una moto vera grande come quella? Eh, fammi chiamare i Narli, dai. Ma non ce li hanno. Ti mandano a quel palazzo. Dai, pezzi di merda, aspettate un attimo che faccio una chiamata veloce, dai. Uno Milano, buongiorno, sono Monica. Eh, pronta, Harley Davidson? Sì, buongiorno, mi dica, come posso guittarla? Eh, buongiorno, sono Mario Balotelli. Senta, volevo un'informazione. Io ho un Harley Davidson, però non la posso guidare per vari problemi. Non esiste per caso un telecomando a batteria. Così almeno la faccio andare in cortile. Un telecomando a batteria? Sì. Un telecomandare a distanza? Non credo proprio. Non mi può passare un meccanico, per favore. Un secondo solo, sì. Grazie. La sua chiamata è stata messa in attesa. Pronto? Sì, pronto, Harley Davidson? Sì. Sì, ciao, sono Mario Balotelli. Senta, volevo un'informazione. Pronto? Sì, siamo qua. Senta, io ho un Harley Davidson, però non la posso guidare per vari problemi. Non esiste per caso un telecomando a batteria, così almeno la faccio andare in cortile. Lei mi sta prendendo per il culo. E vabbè, non esiste niente allora. Eh no, non esiste niente, no. Senta, allora un'altra informazione. Per caso si possono mettere le rotelle alla moto? In America sì, lo fanno. Eh no, io sono in Italia, però devo far girare in Italia, non mi frego un cazzo dell'America. In Italia non è possibile perché comunque sia non sono omologate. Ma mi stai prendendo per il culo? No, 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 assolutamente. Allora vaffanculo, merotti i coglioni. Merotti i coglioni. Dimmi dove sei che quando vengo a Milano ti vengo a prendere a calcire il culo. Numero uno Milano. Te l'ha chiamato, lo saluto. E allora vengo lì. Va bene. Hai capito? E non fare il figo. Ok. Arrivederci. Arrivederci. Vaffanculo, pezzo di merda. Poverino, salutiamo gli amici del numero uno. Ciao pezzi di merda. No, vabbè a noi. Siete bravi. Ciao, bello.